Sì, è la prima volta che faccio un evento del genere, cioè che parlo a un evento del genere, quindi innanzitutto grazie per l'occasione. Il tema del talk è questo, sarò molto generico perché c'è un poco tempo, ma ovviamente rimango a disposizione qui fuori, stasera sarò alla festa, quindi insomma mi potete importunare in qualsiasi momento. Sono Luca Barioncini, lavoro a Net7, che è un'azienda che si occupa di sviluppo software, siamo a Pisa, come si sente immagino all'accento, e mi potete contattare a questa mail, qui c'è il link alla presentazione se volete vederla adesso live sui vostri dispositivi, e mi trovate anche su vari social. Dunque, il tema qual è? Il tema è il tema del modello per i siti dei comuni italiani. In generale, cosa è successo? Che con il Next Generation EU e il PNRR, quindi il piano che recepisce i fondi per il quadro della ripresa post-pandemia, diciamo si è accelerato un processo che già era partito e che mette al centro l'importanza della digitalizzazione in generale per i servizi e le pubbliche amministrazioni, e più in particolare anche per i comuni. Chi ci sta dietro a questo modello, a questo progetto, principalmente Designers Italia, che è un gruppo che ha diretto emanazione di Agid e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che fondamentalmente insieme al gruppo di Developers Italia, ha messo in piedi e sta mettendo in piedi, cioè in questo periodo dei webinar di formazione, un design system per il paese. Io non faccio parte di questo gruppo, sono semplicemente uno che negli ultimi dieci mesi, un anno, ha lavorato con questi modelli per fare i siti a comuni. L'obiettivo del modello comuni è sostanzialmente quello di dare un'infarchitettura condivisa e quindi coerente per tutti i comuni italiani, a disposizione danno un design kit che è disponibile anche su Figma, utilizzano una libreria che è Bootstrap Italia, che è una versione di Bootstrap 5, cioè dietro ci sta Bootstrap 5, danno a disposizione dei template HTML già pronti e dei temi per i principali CMS, uno tra i quali è chiaramente WordPress. Perché WordPress? WordPress è chiaramente il tema più utilizzato, l'abbiamo scelto anche noi perché, vabbè, un po' perché ci lavoriamo in generale, un po' perché sicuramente è facile da installare, è facile da fare utilizzare, il back-end è intuitivo, pensate a chi si occupa di redazione all'interno di un comune, ha sicuramente più facilità a utilizzare uno strumento come questo rispetto a altri CMS. Il tema WordPress quindi è un tema che hanno costruito per appunto facilitare l'adozione di questo modello. Ci sono tutta una serie di configurazioni preimpostate che ti fanno risparmiare tempo sugli aspetti, diciamo, più tecnici. Il modello com'è composto fondamentalmente? Il modello è composto da un'architettura delle informazioni, ovvero da tutta una serie di specifiche riguardo i content type, i metadati, quindi i campi all'interno del content type, le tassonomie, le relazioni tra content type, c'è proprio tutta una strutturazione. Una volta messo questo tema e una volta che l'avete attivato, fondamentalmente vi ritrovate questa sbordellata di content type qua e fondamentalmente una serie di sezioni di configurazioni pronti per l'uso che ti fanno configurare appunto facilmente un page e varie sezioni del sito. È un tema che sulla base di tutta una serie di JSON, al di là di quanto dicevano stamattina in un altro talk, ti mette proprio content type nel tema, perché ovviamente è all inclusive, e ti setta già tutti i campi, ma non solo, ti setta già anche una serie di pagine standard, il menu di navigazione, e ti popola già alcune tassonomie, tra cui la principale che è la tassonomia argomenti, che è trasversale a diversi content type. Ci sono poi una serie di funzionalità, una tra tutte che è obbligatoria, la valutazione delle pagine, cioè quindi su ogni pagina ti ritrovi già, diciamo, la possibilità di dare da una a cinque stelle e dare un feedback rispetto alla chiarezza delle informazioni presenti in quella pagina. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è sostanzialmente dare dei siti web che fanno in modo che l'utente sta al centro, ovviamente, di questa progettazione, l'utente e il cittadino, quando arriva sul sito di un comune, che sia uno che sia un altro, trova sempre lo stesso modello di comunicazione, la stessa infoarchitettura, e non si perde, no? L'esempio che mi faceva piacere farvi è, tipo, se devo fare il rinnovo della carta d'identità, e vado sul sito del comune di Pisa, ci metto due ore a capire dove stanno le informazioni, dopodiché magari tra qualche anno mi trasferisco a Livorno, oltre il trauma di un trasferimento del genere, che vi lascio immaginare, c'è anche il fatto che devo riperdere due ore a capire dove il comune di Livorno ha messo le informazioni per quel servizio. Quindi questo si cerca di evitare, fondamentalmente. Ci sono delle integrazioni, verosimilmente da fare, i servizi principalmente sono gestiti da prodotti esterni al sito prettamente istituzionale, il più famoso è quello con cui ho lavorato io in collaborazione, è un prodotto di un altro fornitore, che ha lo sportello telematico polifunzionale, qui ci stanno tutti i servizi, ovviamente devi poter permettere anche all'utente di accedere ai servizi, di cercare tra i servizi all'interno del sito istituzionale, questo vuol dire connettersi via API, fare delle sincronizzazioni, però diciamo con WordPress è una cosa che viene abbastanza semplice. C'è poi il tasto dolente, ovviamente questa roba qui è legata ai fondi del PNRR, cioè il comune alla fine ha i soldi del PNRR, per prenderli davvero c'è bisogno che il modello venga rispettato. Piccolo inciso, non è un tema che prendi, installi e hai finito, è un tema che in realtà manca di molti template, manca di molte funzionalità, alcune funzionalità vanno sistemate, l'obiettivo del gruppo Designers Italia è appunto quello di dire che io vi do un tema, poi finitelo, che mette diciamo alcuni confini, poi finitelo voi, è un progetto open, quindi si rifanno alla community, l'obiettivo finale però qual è? È quello di arrivare a una validazione del progetto in linea con il modello. C'è un'app che è sostanzialmente, che si può scaricare da GitHub, che è in Node, che si può lanciare e fa un crawling del sito, e fa tutta una serie di controlli. Ci sono diversi gruppi di controllo, il primo gruppo fondamentalmente usa gli strumenti Lighthouse e va a controllare la velocità e i tempi di risposta, quindi ottimizzazione assets, immagini, formati e quant'altro. Il secondo gruppo invece va a controllare proprio che le voci di menu di navigazione siano quelle, che i contenuti siano quelli, che ci siano nei contenuti, nelle schede di contenuto i campi obbligatori, lo fa tramite dei data element, quindi degli elementi che controlla il crawler e che vanno messi nei template. Questo gruppo qua è quello che controlla i servizi, anche se sono esterni, quindi anche il fornitore dei servizi, lo sportello telematico, deve rispondere a questi criteri e qui controlla lo schema JSON, che ha spiegato stamattina Enrico. Qui ci sono testi aggiuntivi su IP, localizzazione del server, dominio e altre best practice. Quindi questo, diciamo, è quello che dobbiamo seguire per cercare di arrivare più possibile vicino a 100. Diciamo che sopra 50 passi con la sufficienza. Questo è un test che ho fatto sul progetto su cui sto lavorando adesso, quindi ancora c'è della strada a fare. Ci sono dei canali di supporto della community, il primo è il forum, il forum Italia, ma sicuramente quello più interessante, quello più vivo è Slack, esattamente come la community WordPress, anche loro hanno aperto un canale su Slack, ci sono diverse chat all'interno, ce n'è una specificatamente che è focalizzata sul tema WordPress e devo dire che è in assoluto la più attiva. Ovviamente questa roba, cioè Bootstrap Italia, i template statici, ma soprattutto il tema di WordPress è su GitHub. Quello che chiedono fondamentalmente è di andare, fare una fork, guardare quali sono le pull request aperte e fare pull request, quindi sistemare, insomma contribuire, cercare di contribuire in ottica open. Conclusione, il tema WordPress fondamentalmente è in continua evoluzione, in queste settimane stiamo seguendo con altri colleghi, il webinar che hanno appunto adesso iniziato sulla formazione, quelli di Designers Italia, sull'utilizzo di questo tema, sul modello. È importante questo tema, lo sviluppo di questo tema, perché fondamentalmente permette appunto quello che dicevo all'inizio e contribuisce significativamente anche al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che come sapete insomma non è poca cosa e è una questione di cronaca abbastanza importante e questo è un QR code che punta a un documento dove c'è una serie di link, ci sono link alla documentazione del design system del paese, ai template statici, ai vari repository su GitHub, al file ODS open che ti fa scaricare tutta l'infoarchitettura. Grazie a tutti.